Lions vuol dire una grande associazione di servizio presente in tutto il mondo, sempre in prima linea nella lotta alla fame, alla sete, alla cecità, a fianco dei più poveri. I Lions portano il loro aiuto nelle grandi emergenze e calamità, grazie anche al supporto della Fondazione Internazionale, la LCIF. Il motto dei Lions è We Serve, perché sono sempre al servizio dei bisogni della gente, al fianco delle istituzioni per migliorare la qualità di vita delle persone. I Lions di ogni nazione sono organizzati in distretti. Il nostro distretto è identificato con la sigla 108 TA3 Italy. Sono orgoglioso di essere un Lions. Oggi sono stato insignito della Melvin Jones Fellow. Melvin Jones è colui che ha fondato i Lions cento anni fa. Cento anni di grande impegno per tutti noi. Molti sono gli interventi a sostegno delle fasce più deboli della nostra società. Molti sono gli interventi educativi nelle scuole. Progetto Sole, progetto vita. Tra la nostra scuola e i Lions Club International esiste da anni una intensa forma di collaborazione. E quindi credo che possa continuare nel tempo per dare tanta e tanta soddisfazione ai nostri studenti. Noi Lions siamo contenti di aiutare i giovani alla prevenzione delle malattie. Molto importante è il progetto Martina. I Lions educano studenti e genitori alla prevenzione dei tumori dell'età giovanile. Noi Lions siamo felici di aver creato il service Banca del Tempo che raggruppa tutti i volontari al servizio dell'ospice pediatrico di Padova. Unica realtà in Italia e tra le pochissime al mondo per le cure pediatriche palliative. Grazie Lions per il vostro impegno in favore dell'ossi spediatrico. Al mondo della scuola sono dedicati anche i progetti Lions Quest e Lions Quert. Il primo promuove la crescita personale degli studenti anche attraverso un percorso dedicato a studenti e insegnanti. Il secondo, il Lions Quert, educa i ragazzi delle scuole medie all'uso corretto dei mezzi informatici attraverso una piattaforma di social network protetta e con l'ausilio di operatori specializzati. I Lions che condividono un obiettivo insieme raggiungono l'impossibile. Il distretto Lions 108 T3 sostengono gli atleti diversamente abili. Lo sport, come il lionismo, esige comprensione, spirito di amicizia e solidarietà. Il comitato sportivo del distretto 108 T3 promuove gare in diverse discipline con finalità benefiche. Dedica una particolare attenzione alle attività sportive dei disabili. Sono un atleta paralimpico di Canoa, grazie al comitato Lions Sport posso praticare la mia passione. Amore per la cultura, amore per la storia e spirito di solidarietà sono il lievito delle nostre iniziative. Il restauro è un contributo dei Lions al bene culturale del territorio. L'arte ha bisogno di essere tutelata e ogni nostro intervento in questo campo è una sfida in nome dei valori dell'umana civiltà. Un vivo ringraziamento ai Lions per questo restauro. Per affrontare problematiche sempre più complesse, per gestire interventi economici di rilevante dimensioni, per finalizzare la ricerca. Il nostro distretto ha costituito una fondazione attraverso la quale i club possono operare con più efficacia e incisività. I Lions si impegnano per la salvaguardia delle risorse naturali. Lottano per eliminare gli sprechi di cibo e di acqua. Tutelano la biodiversità, come per l'ambizioso progetto di salvare dall'estinzione gli splendidi leoni bianchi. Lui Lions siamo da sempre impegnati nella difesa e valorizzazione dell'ambiente. Penso sia un bel esempio di collaborazione tra istituzione e lo spirito lionistico per la valorizzazione del nostro territorio e la formazione di un parco che rimarrà nel tempo anche per i nostri civili. Grazie davvero. Melvin Jones diceva Non possiamo arrivare lontano se non facciamo qualcosa per gli altri. Ecco cosa vuol dire. Essere Lions E allora E allora Grazie a tutti. Grazie a tutti.